E' stata la Camera di Commercio di Frosinone ad ospitare Fondo Futuro, un incontro utile per fare il punto della situazione sulle strategie messe in atto dalla Regione Lazio per supportare le aziende del territorio con azioni di microcredito e microfinanza. Ecco perché si sono seduti attorno allo stesso tavolo esponenti di diverse istituzioni pubbliche e private. Il microcredito così come lo abbiamo strutturato si rivolge ad un tessuto di micro e piccole imprese che possono cogliere con questo fondo l'occasione per potersi rilanciare, quindi una possibilità di liquidità, la possibilità di investimenti, l'idea di una Regione che va ad incidere laddove c'è uno dei problemi principali, appunto il credito, perché l'accesso al credito presenta sempre difficoltà e perché appunto questa è un'occasione per mettere insieme il rilancio, il tessuto produttivo, la possibilità di investimenti. Una iniziativa che si rivolge a piccole imprese già esistenti che però patiscono la crisi, ma anche un modo per incentivare i giovani ad investire tempo, idee e cultura sul proprio territorio. Fondo Futuro è una nuova esperienza che la Regione ha proposto, soprattutto, anzi direi esclusivamente, a tutte quelle imprese non bancabili. Non bancabili perché non hanno le garanzie o perché magari hanno avuto qualche problematica in passato. Ed è un fondo che può essere destinato anche ai giovani che decidono di fare imprese, dunque anche alle start-up proprio perché mancano di garanzie. Arriva fino a 25.000 euro, è possibile scomputarlo in massimo sette anni con un anno di ammortamento e a un tasso dell'1% anno. Per cui è un'iniziativa validissima che va nella direzione di aiutare realmente chi vuole fare imprese.